Musica Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Musica Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni per questo lunedì 14 marzo Tempo instabile all'estremo sud, questo a causa di venti sostenuti di scirocco che porteranno tanto umidità Un po' di nubi, un po' di pulviscolo sariano e anche qualche raro piovasco a ridosso dei monti Specie sul versante ionico Un po' di nubi anche al nord ovest e sul lato tirrenico con fenomeni abbastanza rari Più soleggiato solo sul lato adriatico e il nord est In Abruzzo giornata nel complesso stabile con cieli sereni, qualche velatura inocua nelle aree interne Specie tra pomeriggio e sera non ci saranno fenomeni Temperature in aumento sia nelle minime che nelle massime In pieno giorno avremo temperature tra 9 e 12 gradi Nella notte tra 0 e 4 gradi I venti tenderanno gradualmente a disporsi dai quadranti meridionali Con questo è tutto, grazie per l'attenzione Arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni